Spettica! Basta! Il tuo schifoso cagnaccio si è avventato contro Albert! Questo... questo è impossibile! E allora perché non vieni all'ospedale? Così anche se non potrai vedere il sangue, sentirai la glida di quella creatura! Non ti permetto di parlarmi così, chiaro? E allora sparite tu e il tuo cagnaccio! Fuori dai piedi! Sei una iena! Fuori! Ma qualcuno, tenga presente, che io sono secco, non sordo! Buon appetito! Ecco mia bircana! Vengo! E che incontro i morti, i morti i vivi! E che incontro i morti, i morti i morti i morti i morti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.